... Buongiorno Fabio, siamo qui in questo studio che hai realizzato insieme ai bambini e alle bambine di seconda Tu sei uno scenografo, come mai hai deciso di fare questo lavoro? Allora, per farla breve ho deciso di fare questo lavoro quando avevo la tua età perché un giorno la mia maestra di italiano mi ha portato in teatro e quando ho visto la mia prima scenografia ho detto questo sarà il mio lavoro Ok, grazie Grazie a te Grazie a te Grazie a te